Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto custodia e borse per fotocamere custodia impermeabile per prova l'emozione di scattare foto in luoghi in cui mai avresti pensato di poter arrivare con una fotocamera da ora in poi grazie alla custodia impermeabile della Polaroid i proprietari di una delle fotocamere indicate avranno la libertà di scattare una foto al mare o in piscina, sopra il pelo dell'acqua o anche sotto di esso. Potrai finalmente portare con te la fotocamera mentre fai S.U.R.F., della o immersioni anche in profondità, fino a 130 piedi. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.